ciao a tutti siete venuti sul nostro canale di notizie non dimenticate di abbonarci e condividere per supportare il canale papa francesco all'aeronautica militare il vostro è un prezioso servizio alla pace la ricerca l'innovazione le nuove tecnologie non devono mai essere subordinate a interessi di potere o usi lesivi ma sempre vanno indirizzate al bene integrale dell'uomo allo sviluppo di tutti i popoli a una maggiore giustizia su questa strada il vostro e rimarrà un prezioso servizio alla pace è il monito del papa durante l'udienza concessa oggi a una delegazione dell'aeronautica militare italiana in occasione del centenario dell'istituzione se all'inizio la presenza dei militari si rendeva necessaria soprattutto nel tragico tempo della guerra oggi come per altre forze armate le donne e gli uomini dell'aeronautica intervengono in molti altri contesti ha sottolineato francesco penso alla sicurezza del volo e al soccorso per i quali voi assicurate la disponibilità 24 ore su 24 alla cooperazione con organismi internazionali per le missioni umanitarie e di sostegno alla pace alla gestione di gravi disastri naturali anche a favore di paesi meno attrezzati e popolazioni più disagiate penso anche al vostro contributo nelle emergenze sanitarie come la pandemia da covid 19 che vi ha visti impegnati a mantenere operativi gli ospedali sostenere la campagna vaccinale e garantire il trasporto aereo di malati l'omaggio del papa il trasporto si rende necessario anche in altre urgenze sanitarie o in esigenze speciali della nazione quali gli spostamenti di cittadini in condizioni di difficoltà all'estero o di autorità è un impegno che vi fa onore dal quale si comprende lo spessore del vostro servizio alla patria allargato alla grande famiglia umana voi difendete accogliete soccorrete e servite le persone sostenuti anche dal ministero dei cappellani il ritratto di francesco e inoltre svolgete attività di formazione offrendo insieme alla competenza specializzata trasmessa nelle vostre scuole l'eredità di un patrimonio culturale e valoriale che vi consente di mantenere la vostra identità di servitori dello stato e dei cittadini infine siete uomini e donne connotati da grande passione impegno coraggio e motivazione pronti a pagare il loro tributo di fatica e a volte di vita come fu ad esempio per i 13 militari italiani uccisi a kindu in congo durante un trasporto umanitario sotto legida dell'onu in questo tempo in cui l'umanità è tormentata da terribili conflitti la custodia di tale ricchezza umana rappresenta la migliore garanzia del fatto che il vostro impegno è sempre indirizzato a difesa della vita della giustizia e della pace a concluso il papa punto grazie per aver guardato l'intero video iscriviti e condividi per supportare il nostro canale e creare video migliori grazie e ci vediamo di nuovo